Sono stati assegnati i pascoli ad otto aziende zootecniche che hanno presentato richiesta al comune di Sulmona e sarà completata l'assegnazione dei pascoli per il 2019, ma il nostro impegno è quello di raggiungere l'obiettivo. Auspichiamo già la prossimo anno di un'assegnazione quinquennale, ponendo fine dunque ad affidamenti temporani così brevi. Siamo riusciti infatti a sbloccare la procedura per la pubblicazione della verifica ademaniale che consentirà l'amministrazione di dotarsi, tra gli altri strumenti, di un piano dei beni agropastorali per fidelizzare prioritariamente gli allevatori locali alla cura del territorio, garantendo loro lotti pascolivi per periodi pluriennali, sui quali possono chiedere premi comunitari previsti da piano di sviluppo rurale regionale 2014-2020, ricorda l'assessore alle politiche dell'agricoltura Manuela Cozzi, sottolineando che è un beneficio anche per il territorio, in quanto siamo in grado di effettuare un continuo monitoraggio degli allevamenti, dalla cui salute dipende anche la qualità dell'ambiente. In virtù di tale assegnazione infatti le aziende potranno presentare stanza anche per un'indenità compensativa per le zone montane nel 2019, secondo il Bando Pubblico della Regione, un aiuto in sostanza per gli agricoltori delle aree svantaggiate.